Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Benvenuti nel mondo scozzese, noi abbiamo tutta una serie di birre artigianali e altri un po' meno artigianali dedicate al mondo della Scozia tra queste la Pank Ipa che è un prodotto dell'azienda Brewdog che è molto conosciuto in tutto il mondo è una Ipa, è un prodotto che ha un retrogusto molto fruttato e quindi molto piacevole da bere soprattutto con queste temperature del sud noi siamo due fratelli, veniamo nella Giove del Colle, abbiamo questo track con cui prepariamo panzerotti fritti nelle varie farciture abbiamo scelto di fare il panzerotto perché è comunque un prodotto classico che piace a tutti quindi alla fine è un prodotto che è comune, che ripeto può piacere e quindi alla fine facendo con più farciture accompagna in vari momenti della giornata e in più le serate estive, grazie, vi aspettiamo Io sono il maestro Vincenzo Delia, vengo dalla provincia di Salerno e la mia specialità è la pizza sfoglia è unica in Italia perché lavoro farina di riso e farina di farro abbiamo portato questa specialità in buglia e speriamo che la gradiscono A me giovinazzi già piace assai, più questa cosa non sapevo niente e mi sono avvicinata qui Radio Doppio Zero Suona ciò che ami, più suona e più la ami Grazie a tutti